È bellissimo, mi affascina, è come entrare... che è successo? È successo che all'edizione autunnale del Milano Ai Fideliti 2022, quest'anno c'era anche Rossana Casale, che ha appena presentato il suo nuovo album Johnny, quasi un live in studio, molto ben registrato e in cui interpreta in maniera nuova, intelligente ma anche rispettosa, i brani del repertorio più interessante di Johnny Mitchell, che l'ha ispirata sin da quando era molto piccola. Al Melià, prima di concederci una breve chiacchierata sull'alta fedeltà e sulla sua ultima produzione, Rossana Casale è stata ospitata nella sala del Tempio del Suono, quella con i grandi sistemi Aspen DPS Audio, mossi da una catena AccuFace con il lettore SACD DP570, il Pre-C2009 e il finale P7005, un sistema attualmente in funzione nel punto vendita di Rissone e che vi invitiamo ad ascoltare. Io sono un'analogica, proprio sono nata analogica e cerco il suono analogico e il venile è ancora per me l'oggetto più bello che ci sia, però ho tanti CD ovviamente a casa perché poi cammino con i tempi, non è che vado con la cariola. Non ho veramente il tempo di fare diventare tutto ciò che è l'evoluzione tecnologica del suono una vera passione, perché sono più impegnata a lavorare su me stessa come artista, oltre che come docente perché sono anche docente di conservatorio, quindi ahimè no, però è molto bello vedere le persone che sono totalmente appassionate, che hanno molta cultura, che si aggiornano in continuazione, poi mi nominano 3000 nomi di microfoni nuovi, che io dico ma io col Beta 58 sto benissimo, grazie. Va bene, ok, proviamo questo e quell'altro, guarda questo microfono che costa 16 mila euro, io ok, ma io sempre il Beta 58 amo perché riesce a portare la mia voce come piace a me. Ma mi fido, ho avuto persone molto in gamba anche su questo ultimo mio lavoro, questo tributo a Johnny Mitchell, il lavoro che è stato fatto sia dalla fonica di registrazione, per la registrazione che per il mastering e l'editing da Federico Pelle, è un lavoro estremamente raffinato, il risultato è quello che volevo io, nel senso che ho la voce avanti, però non è sola, è circondata intorno allo spazio. E questo per me è molto importante perché io volevo che i testi si capissero tutti, ho avuto anche un language coach, pur essendo io americana, sì, perché no, la verità è che facevo degli errori perché a furia di vivere in Italia qualche termine, magari l'ho pronunciato, pronunciavo male o l'avevo catturato, non esattamente, e qualche correzione mi è stata fatta, è stato molto importante, Chuck Rolando peraltro, che è un ex, ma ancora canta, ha una voce bellissima, Passengers, si ricordi i Passengers? In the village, the peaceful village, i Passengers, le due ragazze non cantavano, eravamo noi coristi che cantavamo per loro, mentre invece i ragazzi cantavano, e c'era Chuck Rolando, che poi ha lavorato tanto tempo in Sony, e adesso fa il language coach, e io gli ho chiesto di darmi una mano su questo lavoro qua. Quindi, l'importanza per me era che ci fosse questa definizione della parola, e che il suono però fosse intorno a me, ma unito anche, cioè, proprio la sensazione di quello che è stato poi la registrazione dell'album che è stata live, completamente live. Esiste anche un video di queste fasi di registrazione? Uscirà mai qualcosa in video? Assolutamente no, perché anche in quello io mi perdo nella parte artistica, no? Perché è bellissimo avere, si vedono per esempio nel nostro settore di consumatori... Eh, hai ragione, però hai capito, là un artista non può fare tutto, l'artista deve fare l'artista, e io già troppo faccio, già ho imparato a fare i reel su Instagram da due giorni, ok? Cioè, io non so come dirti, che c'è mio figlio che ride di me, perché io proprio... Ma no! Io datemi un pianoforte, lasciatemi stare. Perché deve sapere che in questo settore di folli, non so se siete riusciti a fare un giro tra i vari impianti... Sì, sì, ho fatto pari. Ci sono cose anche piuttosto impegnative. Sì, sì, no, anche oggetti piccolini che mi dicono, buh, vabbè. Esatto. Sono quelle robe che quando magari trova un genitore, una madre che sta facendo le pulizie, trova una vita e dice, buh, questa vabbè, no, invece magari è un pezzo importantissimo. Esatto. In questo settore maniacale, dove ci sono vari impianti e dove c'è un'eterogeneità anche di timbrica e di scena molto, molto diversa tra un impianto e l'altro, spesso vengono usati dei brani per mettere alla prova questi sistemi. Ah, certo. E quindi è importante. Ci sono delle sue produzioni... Eh, una volta, ti ricordo, si metteva sempre gaucho o... Sì, certo. No, gli silly dance si mettevano a tutto volume per fare... per testare l'impianto. Però ci sono delle sue produzioni un po' più antiche, anche prima del 2000, tipo il primo album che ha fatto... Jazz in Me, mi sembra. Jazz in Me, sì. Che, tra le altre cose, ha una qualità molto elevata di registrazione. Se sapessi dove l'abbiamo registrato. Ma lo sai che davamo i pugni, cioè, questo studio si chiamava Barigozzi, è un studio che è stato storico per il jazz e si andava tutti là perché era l'unico studio che ti dava il suono analogico del jazz americano. E c'erano... era talmente vecchio questo studio che il fonico dava i pugni ai canali per farli ripartire. Poi l'abbiamo mixato in uno studio molto bello, devo dirti, però anche lì è stata un'esperienza difficile perché per migliorare il suono l'alum non suonava più. E quindi abbiamo buttato tutto via e abbiamo semplicemente alzato le tracce così ed era perfetto. Forse è quello il segreto di quell'album. Forse il segreto è quello di... Non plug-in, non artefatti, ma l'essenzialità. Cosa pensi del mio album?